Arrivano lettere e email di persone che hanno delle malattie, tumori, leucemie, eccetera, che veramente sono andati in grandissima difficoltà. Cioè ormai sembra che quasi tutti siano concentrati solo, esclusivamente, sul Covid. E quindi Alessandro, questo è un problema. Bassetti, anche da voi è così, c'è questo problema che è molto grave. Guardi, questo è quello che mi hanno scritto alcuni pazienti. Senta il paradosso. Io vorrei avere il Covid, ho sentito dire da qualcuno. Perché se tu hai il Covid, oggi hai un letto immediato in ospedale. Se hai bisogno di assistenza intensiva, ce l'hai immediatamente. Nessuno si preoccupa di tutti gli altri. Perché purtroppo, questa è la realtà dei fatti. Oggi noi siamo di fronte a malati di serie A. Quelli che hanno il Covid sono positivi per il Covid, che hanno un percorso assolutamente agevolato. E malati di serie B, che sono gli altri. Questo è l'errore che abbiamo commesso, se ce n'è stato uno nella prima fase. Noi non possiamo più fare l'errore in questa seconda fase. Avremo casi in più. Dovremmo continuare a dare, non solo a chi ha il Covid, che è ovviamente giusto, ma anche a tutti gli altri. Non potremo più permetterci di bloccare le liste attesa. Non potremo più permetterci di stoppare degli esami per stare dietro ai malati di Covid. Non possiamo farlo perché questo fa parte della convivenza con il virus che avremo, come ha detto l'amico Paolo Silleri, per ancora...